Ciao, il libro di oggi è Il denaro di Emile Zola. Il denaro di Emile Zola è un grande romanzo ambientato nella Francia della fine dell'Ottocento, in particolare a Parigi. Quella Parigi che in quegli anni risplendeva, quella Parigi che da pochi anni era stata ristrutturata dal punto di vista architettonico con i grandi boulevards che si possono vedere qui e che pochi anni dopo avrebbe visto sorgere la Tour Eiffel, simbolo di quella città per tutti noi. Il denaro di Emile Zola è un grande libro dedicato a, che vede al suo centro due personaggi. Aristide Saccart che è questo uomo, questo borghese che si emancipa e fonda una banca, una banca che lega ad affari per la costruzione di una rete ferroviaria vicino al canale di Suez e il secondo personaggio del libro è l'argento, il denaro. È un grande libro sulla finanza, è un grande romanzo storico, è un grande affresco di quegli anni, è un grande affresco della prima, di un'economia globalizzata, della prima globalizzazione di fine Ottocento. E nello stesso tempo è un grande romanzo dedicato appunto all'ascesa e alla crisi di un uomo e di un modo di fare economia. Ci sono dei meravigliosi affreschi di personaggi, come se fossero dei quadri, penso in particolare alla descrizione degli uomini che popolano la borsa di Parigi, che sono bellissimi. È un libro dedicato alla crisi, a una crisi finanziaria, ma una crisi che si sviluppò allora, ma che ci dice tante cose sulle crisi successive. Il libro è pubblicato da Sellerio, è stato ripubblicato nel 2017, dopo tanti anni che non si trovava, e mi ha ringraziato perché è veramente un grande libro, un grande romanzo storico, di come i francesi dell'Ottocento erano in grado di scrivere, che racconta le vicende di un uomo, ma attraverso le vicende di quell'uomo racconta le vicende di quella società, ma forse non solo di quella. Ciao!